I carabinieri del Rossa hanno arrestato al mattino di oggi l'ultimo super latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro scovato in una clinica privata a Palermo. Lo scorso 10 gennaio ad Agrigento in prefettura, in occasione della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riservata all'emergenza migranti a Lampedusa, il ministro dell'interno Matteo Piantedossi è stato Sibillino. Infatti le sue parole sono state «Se arrestassero Matteo Messina Denaro mi farebbe molto piacere». Ebbene, l'ultimo super latitante di Cosa Nostra, l'ultimo baluardo storico dei Corleonesi di Rina e Provenzano, l'ultima Primula Rossa, figlio del Patriarca Francesco, nato a Castelvetrano in provincia di Trapani il 26 aprile del 1962, ricercato da oltre 30 anni, dal 2 giugno del 1993, conosciuto come Usiccu o Diabolik, pluricondannato ad Ergastolo anche per le stragi del 92 a Palermo e del 93 a Roma, Firenze e Milano, e per il sequestro e l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, ha le manette ai polsi, strette dai carabinieri del Rosse che lo hanno scovato al mattino di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, in una clinica privata a Palermo, la Maddalena, in via San Lorenzo Colli 312, dove sarebbe stato ricoverato in dei hospital per sottoporsi a delle terapie. Come piante dosi, anche il ministro dell'interno 30 anni addietro, Nicola Mancino, fu altrettanto sì billino, quando pochi giorni prima ventilò il possibile arresto di Totò Riina, e il capo dei capi, del quale Matteo Messina Denaro è stato il leppupillo, fu catturato a Palermo il 15 gennaio del 93, esattamente 30 anni addietro, dopo 24 anni di latitanza. Dopo il blitz nella clinica, il boss è stato condotto nella caserma San Lorenzo, poi all'aeroporto di Bocca di Falco, e poi trasferito in un carcere di massima sicurezza. Lui si sarebbe recato periodicamente nella clinica per dei controlli, dove sarebbe stato in cura da un anno, da quando è stato operato per un tumore nella zona addominale, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, nato il 23 ottobre 1963. Al mattino di oggi si sarebbe sottoposto ad un tampone Covid, per prepararsi ad un ciclo di infusione di sostanze chemioterapiche. Nella scheda di accettazione della clinica è scritto, prestazioni multiple, infusione di sostanze chemioterapiche per tumore. La struttura è stata circondata dai Carabinieri del Rosso per tutelare gli altri pazienti. Messina Denaro, con cappellino, cappotto di montone, occhiali da vista scuri, visibilmente ingrassato rispetto alle foto identikit, non ha opposto resistenza. Da tempo in ambienti mafiosi e investigativi si è diffusa l'ipotesi che Matteo Messina Denaro fosse malato. E una conferma è giunta appena due mesi addietro, a novembre, quando il pentito Salvatore Bagliardo, che all'inizio degli anni 90 gestì la latitanza dei fratelli Graviano, ha affermato «Messina Denaro è gravemente malato, medita di costituirsi». E magari chi lo sa che arriva un regalino, che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso e così arrestando lui magari esce qualcuno che ha allergastolo stativo senza che ci sia clamore.